André, che vuoi fare? E' così niente. Perché stai così niente, è vero? Eh, è sempre così niente. Tutte le situazioni così le abbiamo risolte. E' così niente, e' così niente. Non teniamo che mangiare. E' così niente. Ci manca il necessario. E' così niente. Il padrone muore, e' per due posti. E' così niente. E' così niente. Ci negano il diritto della vita. E' così niente. Ci tolgono all'aria. E' bebo, e' che vuoi fare? E' così niente. E' sempre così niente. Quanto si bella. Quanto era bella. Guarda a me. Guarda che sono davanti. a fuori di dicere che è così niente. ma che è pulita, ma che è pulita, ma che è pulita, ma che è pulita a me. Tu devi rispondere così. E' così niente. E' così niente. E ora dove vai, André? A dove vai? D'into a questo paese, non c'è sta niente a fare. E' sempre così niente. D'intrittà The Enderale. Pag.